per il challenge giovanissimi il numero 392 Federico Gambetta per il team de mix in verta si è preso la prima posizione abbiamo Tommaso Frizzarin a SB Snate nel secondo posto per il terzo posto c'è il team Bicciaio con Andrea Buna no mia attenzione purtroppo la famiglia per il tra l'altro del team Bicciaio abbiamo quindi Federico Gambetta, Tommaso Frizzarin per la spinale di numero 336 e 606 quindi siamo con Di Saia, Di Battista e Lorenzo Pedrini che ritroveremo in finale categoria G6